Sì, questa è diversa di forma, niente di meno è, rispetto all'angrenata, dalla come canciaforma, diventa rotonda, lunga, ma come mi scappa, come mi scappa? Sì, stavo tagliando, è impossibile che non è qualcosa, perché io tieni una telecamera ferma e lì già scappa, proprio scappa, talia, come canciaforma, talia, 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 come canciaforma, teleca canciaforma, non c'è il numero, Vedi che è come stai, non è che stai la vicelle, si vede la forma, non c'è questa cosa, non so dove siete che stai ancora, alla fine, non si chiuda, alla fine, ma vedi che è enorme, la vicelle, come si vede? E' incredibile, senti che cambia colore Italia, viola, blu, rosso, rotonda e scappa, e me la facessi scappare. Qua sì, non stai cattarmi, allora è come un fatti e come un fatti, come... La cosa trasparente c'è. La cosa trasparente, la bolla è un po' più po' dietro, ma con sé. Vedi la cosa trasparente. Vedi la cosa trasparente. Vedi la cosa trasparente. Ora si ingrandisce. Mi freddo. Vedi la cosa trasparente. Ora cambia la forma. Ma parla, Andrea. Mi sono che è una stella. Una stella che deve trattare a noi a Betalem. Vedi la cosa trasparente. Vedi la cosa trasparente. Vedi la cosa trasparente. Vedi la cosa trasparente. Ma non si vede che il piede si impende. E ho ma si vede che è la testa che piene. Vedi? Taglialo. Sì, vedi perfetto, vedi, vedi, vedi la savora, ma dai la savora. Mi sa che se non è riuscita, si non ha chiuso. La palla, te la palla. Mi sa che no. Quanto dei movimenti sono diverse qua. Tale? Cioè, proprio che impressionante, è impressionante. Sì, che moda. Sì, che moda. Sì, che moda. Io dovevole. Questi ma glasa. Tutti mille. Otti mille, però le всё. La palla. Ce Sì. ce n'erano 800 kg a sopra e ne voglio ogni singolo panetto dentro 12 ore capitolo primo mi dice che l'oceano è la tua casa invece io non lascio mai questa barca quindi ecco che faremo tu ti farei una bella nuotata nel giardino della fiobra prenderai il resto e me lo porterai poi parleremo di cifre da quelle parti girano molte barche che cercano il mio plano se li peccheranno che farete il mio nome me la prenderai come le persone che amate mi scapparrei levate 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 con levate mi viene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.